Ciao amiche e ciao amici, come stimolare i chakra sessuali con le campane tibetane? Ora, intanto i chakra sessuali sono il chakra segreto, quello alla base della corona vertebrale e poi il secondo chakra nella configurazione del sistema 7 chakra che è il chakra all'altezza dei genitali fondamentalmente quindi due chakra sono questi, quelli che diciamo hanno come compito tra virgolette la gestione delle energie sessuali stimolare i chakra sessuali significa poter vivere meglio la sessualità, più in armonia diciamo con se stessi, col proprio corpo e in armonia col corpo degli altri le campane tibetane hanno la funzione di dare vibrazioni, noi siamo fatti di vibrazione e con le vibrazioni riusciamo a migliorare completamente la nostra vita renderla più in sintonia con l'universo diciamo così e anche la sessualità quindi quello che devi fare è metterti in una posizione comoda con una schiena retta ma non tesa chiudere dolcemente gli occhi e portare piano piano la tua attenzione alla base della corona vertebrale puoi portarla sui genitali e lasciarti assorbire completamente dalla musica dalla vibrazione della campana lasciando che questa energia penetri dentro di te e si diffonda possente e benefica nei tuoi genitali sia che tu sia uomo sia che tu sia dono nasce che le vibrazioni entrino dentro e diano maggior vigore se sei uomo e maggior piacere se sei donna le vibrazioni faranno da sole ciò che devono fare tu concentrati semplicemente sulla zona genitali e che non è la prima volta e che non è la prima volta Concentrati sulla zona genitalia. Concentrati sulla zona genitalia. Lascia che le vibrazioni si diffondano possenti e benefiche in tutta la tua zona genitalia. E adesso lascia pure che la tua attenzione vada sul respiro. Porta attenzione sull'aria che entra e cresce dai tuoi polmoni. Trattieni l'aria alcuni istanti e poi espira da fuori fino in fondo con la bocca. Fai questo per tre volte e dopo la terza volta apri gli occhi e rendendoti conto di aver rivitalizzato sia che tu sia uomo sia che tu sia donna la tua zona genitale. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e ricevere un video di risposta. In più se il video ti è piaciuto condividilo con i tuoi amici. Ciao!